Il maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Lei vada a bordo! È un ordine! Lei non deve fare altre valutazioni! Lei ha dichiarato l'abbandono nave! Adesso comando io! Lei vada a bordo! È chiaro?